Fervono i preparativi per la Befana di Marignana, una delle tradizioni più antiche delle colline camaioresi, costretta anch'essa a lungo stop e che ritorna con una grande novità, una passeggiata ad anello lungo la quale verranno organizzati giochi e canti per coinvolgere i più piccoli e tramandare loro questa tradizione centenaria. Effettivamente è stata una grande emozione poter ripartire finalmente dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia del Covid e quest'anno ci sarà la camminata che partirà alle 10 e mezzo dalla chiesa di Marignana, sarà la prima edizione di questa camminata che coinvolgerà tutti i bambini, anche gli adulti e ci saranno delle cose particolari come attrazioni, canti, rievocazioni della Befana antica che si celebrava già 100 anni fa a Marignana e unitamente poi attività ludiche per i bambini e ovviamente non mancherà anche la Befana che li accompagnerà durante il tragitto. Altra grossa novità è la collaborazione sempre nel segno dell'avvicinamento dei più piccoli alle nostre tradizioni con un'associazione che rievoca antichi giochi e giocattoli. Sì, abbiamo chiesto una collaborazione proprio per riscoprire questi giochi antichi che si facevano tanti anni fa unitamente anche poi questi giochi saranno modernizzati per stare al passo con i tempi ma per far riavvicinare i bambini a quelli che erano i giochi di tanti anni fa, come si divertivano, come giocavano, come si stava insieme in comunità.